benvenuti in un nuovo vlog io sono benedetta founder di bgs cosmetics e questa sera vi porto in una night routine insieme a me una delle prime cose che faccio è l'oiling precisamente sia il viso che i capelli e utilizzo il siero viso idratante di bgs cosmetics più l'olio di mandorle dei provenzali se non sapete cos'è l'oiling ho fatto una guida a riguardo all'interno del profilo tiktok l'oiling viso e capelli è fondamentale perché preserva la barriera idrolipidica ed accompagnato insieme a dei massaggi specifici fa sì che possa prevenire secchezze e soprattutto rughe e segni di espressione è molto importante farlo la sera e non la mattina ovviamente e si può fare appunto o prima di fare la doccia o prima di andare a dormire ovviamente utilizzando magari una carta assorbente per andare ad assorbire l'olio in eccesso è adatto a tutti i tipi di pelle ovviamente deve essere utilizzato un olio viso specifico e varia la frequenza da tipo di pelle a tipo di pelle ovviamente le pelle più grasse non possono farlo più di una volta a settimana procedo anche a fare nello stesso modo l'oiling viso e poi mi metto generalmente a lavorare lo tengo in posa per un'oretta faccio solitamente delle attività che non mi stressano quindi magari posso chiamare dei familiari o comunque anche mettermi a controllare delle particolari mail o spesso mi viene anche voglia di fare del lavoro creativo quindi mi faccio venire qualche idea e faccio generalmente un piano o uno schema che poi invece finalizzo il giorno dopo la mattina dopo in generale mi piace molto lavorare di sera perché mi dà più tranquillità o perlomeno mi dà una sensazione di avere più tranquillità è bastato un'ora ora vado a farmi una doccia ovviamente all'interno della mia shower routine utilizzo i prodotti di bgs cosmetics precisamente shampoo solido e balsamo solido se li utilizzate ricordate di utilizzare sempre un po d'acqua prima per attivarli ricordatevi anche di scegliere ovviamente lo shampoo e il balsamo solido rispettivamente per il vostro tipo di capelli quindi grassi o più a tendenza secca procedo all'asciugatura dei capelli e poi successivamente mi verso ma prima una idratazione e profumazione del corpo per idratarmi uso questa che è una crema body si adatta anche per neonati con dentro calendule tantissimi ingredienti lenitivi come vitamina E, camomilla, malva che appunto fa sparire ogni tipo di rossore e poi appunto idrata anche a fondo grazie alla presenza di oli e burri vegetali successivamente mi profumo un po' sicuramente è molto piacevole quando si va a dormire e profumarsi e successivamente procedo alla parte che preferisco della mia night routine che è ovviamente la skin care con la mia fascia questa sera faccio una skin care molto purificante utilizzando la mia maschera all'argilla il sero viso purificante di bgs e una crema viso la faccio molto purificante perché comunque voglio concedermi una maschera ma anche e soprattutto perché dopo le feste pasquali mi sono un po' riempita di piccoli brufoletti questa maschera all'argilla è fenomenale per quelle che sono tutte le imperfezioni anche per acne e solitamente poi faccio un impacco al contorno occhi con la maschera alla bava di lumaca che è quella più idratante questo multi masking lo tengo generalmente in posa per 20 minuti parla mezz'ora e successivamente mi metto un po' a leggere questa sera ho deciso di sfogliare alcuni cataloghi che ho preso al Cosmoprof sempre per andare ad avere delle idee se già mi seguite sapete che sto lavorando su nuovi progetti, nuovi prodotti e come detto prima solitamente la sera ho un buon momento creativo in cui mi vengono delle belle idee che poi vado a segnare e pianificare il giorno successivo leggere in generale con la maschera su è sempre un momento super rilassante per me a volte torno come in questo caso un po' a lavorare ma sempre attività molto creative che sono decisamente a basso sforzo mentale successivamente vado a sciacquarla mi raccomando queste due maschere vanno risciacquate molto bene con acqua prima di procedere al resto della skin care procedo poi con il siero purificante perché appunto voglio andare ad agire molto bene su tutti i brufoletti che mi sono un po' spuntati questo è un siero che ha acido salicilico e ha vitamina C quindi vanno ad agire molto bene per quelle che sono le piccole imperfezioni e va sempre a dare una certa luminosità al viso poi successivamente ovviamente crema viso un passaggio che non può mancare questa qui la mia di BGS Cosmetics è una crema che tra l'altro si assorbe subito molto velocemente e lascia la pelle molto idratata e compatta dopo la skin care mi piace concedermi quasi sempre una titana a volte la prendo anche insieme a quando sto facendo il multi masking questa sera scelgo questa Buen Suegno ultimamente appunto sto bevendo queste della Yogi Tea sono tutte molto buone e comunque danno sempre un certo benessere anche alla pancia in generale proprio a tutto il corpo ricordatevi che anche per la pelle è necessario proprio fare attenzione a ciò che si mangia alla salute del proprio intestino di tutto il sistema digerente queste tisane possono aiutare comunque tutto il sistema digerente a detossificarsi e quindi conseguentemente ad avere anche meno problemi alla pelle queste tisane della Yogi Tea tra l'altro hanno quasi sempre un messaggio molto empowerment come per esempio questo the unknown is where all outcomes are possible and treat with grace trovo che sia un'idea super carina anche per il mood proprio di queste tisane c'è anche una posizione yoga proprio per ogni tipo di tisana successivamente mi dedico un'altra parte importante della mia nice routine che è il journaling e vi consiglio di farlo se ancora non lo fate il journaling è inserire un po' tutti quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti nella giornata i successi, i fallimenti ed è anche un modo per fermarsi e ringraziare per ciò che appunto si è sperimentato è anche una vera e propria introspezione e analisi di se stessi di come ci si è comportati e aiuta a focalizzarsi su quelle che sono le proprie aree di miglioramento sia in termini personali che magari in termini professionali se avete anche un periodo difficile scriverlo spesso aiuta proprio a togliere quelli che sono i pensieri soprattutto prima di andare a dormire questa è solitamente l'ultima attività della mia night routine io vi saluto e vi auguro una buona serata e ci vediamo al nostro prossimo vlog